Musica E ciao a tutti amici sono il vostro caro Dexter E oggi siamo qui con FanFright Il simulatore di Youtube Youtube Simulator E ragazzi spolliciate e continuate a suggerirmi Altri giochi, altri simulator che volete vedere Qua sotto nei commenti 40.000 mi piace, prossimo Gioco stupido, assurdo qua sotto nei commenti Scrivetemi anche che tipologia dei giochi volete vedere Ma adesso siamo pronti a iniziare Eeeh, no Quello è Quello è Giochiamo Ok, sembra Minecraft ma non lo è Cosa dobbiamo fare? Un abbraccio vuoi? Certo, abbracciami Un bacetto, che cazzo? Che devo fare? Lo coltivo all'orto Tiè, mi nasce le piante Oh, ma che cazzo? Il mio scopo è fare iscritti, al momento abbiamo molti iscritti Tre E devo tipo impedire alle persone Di rubarmi gli iscritti Tipo Brazzo Crew in questo gioco Oh Brazzo Che cazzo fai? Invece di darti gli iscritti Te li ruba Muori E quindi te li devi spruzzare addosso Entriamo Ci siamo Oh, secondo me Mi spero di mai Oggi Siamo qui Per lo speciale Sette iscritti Oh, una targa di YouTube Beh, d'altronde il premio per i 7 iscritti 107 iscritti Fuori dalle palle Vattene Marzia Marzia Perché Marzia mi ha fatto fare game over? Ragazzi, se volete fare youtuber seriamente Non fidanzatevi Perché se no Le ragazze vi succhiano l'anima E vi fanno perdere tutti gli iscritti Che cazzo stai dicendo? Eh? Salve a tuuuutti ragazzi Oggi commenteremo Questo nuovo videogioco Chiamato Molise Come vedete È un simulatore Levati dalle palle Scusami Sto commentando il Molise È un simulatore Molto realistico Infatti Come possiamo vedere Se noi andiamo avanti nel gioco Possiamo vedere campo basso Meglio del L'Oculus Rift ragazzi Oh c'è Bombo Ciao Bombo Che fai commenti il Molise anche tu Ok prendiamo Oh 13 iscritti ragazzi Sto facendo il mio record Ho parlato troppo presto Ok Abbiamo 0 iscritti Andiamo in cucina No No Go first Il nostro obiettivo Che è l'obiettivo di tutti gli youtuber È fare un milione di iscritti Ma posso anche cambiare visuale? Sono Mark Piller Wow E ho 3 iscritti Domineremo il mondo Sono le 4 e 20 del mattino E in tv fanno un documentario sul Molise Quindi non solo il videogioco Ma anche il documentario E ragazzi Sì le battute sul Molise sono noiose Sono ripetitive La cosa bella però È che nessuno può offendersi Basta non le faccio più vi giuro Scusate amici del Molise Lo sapete che vi voglio bene Sono tutto a quei due sul server Infatti stasera l'ho invitati a cena Ciao Reddits E ciao Sinergo Come state? Tutto bene? Oh guarda a capotavola c'è anche Sistiana Ciao! Oh chi è chi è? Mi sta ammazzando Maledetti bastardi Basta voglio essere PewDiePie adesso PewDiePie! Ecco siamo PewDiePie adesso Questa è la mia stanza Per registrare Ecco vedete Questo è il mio traguardo Per due iscritti Oh! E ho due televisori E c'è una cosa che brilla Andiamola a prendere Oh! Cento iscritti ragazzi Ho una casa Oh! Un nuovo fucile Headshot bitch Ma fa cosa? Ma sparamocciolo C'è Andrea Di Pre Gentili telespettatori Tieni Ti catafratto la fronte Ciao Sì ma è giusto il momento Di fare più iscritti eh Stefano! Ma gli iscritti non salgono ragazzi Cioè Che brutta cosa Ho perso tutti i miei iscritti Oh! Altri iscritti! Scusate eh Uno non può restare in bagno da solo Ah! Ho capito che gli amici Se vedono nel momento del bisogno Però Fuori dalle palle Grazie Oh! Altri iscritti! Cazzo sto morendo Vedevate dalle palle Scusate eh Attenzione c'è la targa argento La targa argento Eeeh 2,77 iscritti Verso il milione Oltre Più si fanno iscritti E più iscritti arriveranno 300 iscritti Cazzo Ora posso attivare il programma di partnership E fare big money Ma cosa game over? Giochiamo ancora Bene Ora sono PewDiePie Cos'ho in mano? Una spada? Quella è una spada Non voglio abbracci Sono allergico Sono allergico ai vostri abbracci Non sono Justin Bieber Non sono Justin Bieber Abbiamo un estintore in mano Ma non si spegne Il fuoco Certo Bene ragazzi Questo era YouTube simulator Fan fright Ho perso tutti i miei iscritti Siamo a zero Bene così Qua nessuno mi può vedere Sono mimetizzato Non venite qua da me Non venite qua da me Aiuto Mi vogliono abbracciare Sono allergico agli abbracci Sono come Colaf Non sono Justin Bieber Non sono Justin Bieber Morto Che cazzo? Che cazzo? Succede? No regà No regà Cioè questi sono ventilatori Sono dei fottuti ventilatori Che mi stanno venendo addosso E non sono neanche montati al contrario Questo è Zeb Simulator Il suo incubo peggiore Aiuto Ma hanno ucciso i ventilatori What the fuck? Bene ragazzi Questo era YouTube simulator Ho perso tutti i miei iscritti Fatemi sapere se volete altri giochi di questo genere Continuate a suggerirmeli qua sotto nei commenti E spolliciate che a 35.000 mi piace Prossimo gioco stupido, assurdo, no sense Simulator Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto Facebook e Instagram in descrizione Noi ci vediamo prestissimo a un nuovo video Vi mando un abbraccione Un salutone E ci ricciao gente Comunque sto contento perché più di Bay adesso ha 0 iscritti Buono Distributore di chiappe? Questo è un distributore di chiappe Prego inserire la sua monetina Cioè queste cose